e quindi ci siamo nel senso che ad aprile ormai potremo avere tutto in mano la scatola dei dji mini 3 e perché credo che questa immagine che è circolata online non sia fake perché mi sono preso la briga di tradurre questa scritta e c'è scritto versione con telecomando con schermo che è quello che loro sono soliti fare sulle loro scatole specificare la versione del drone e poi finalmente con i sensori antiostacoli non dovremo più aspettare un anno perché lì ci dia l'active truff ma avremo l'originale dji e siccome io questo l'ho cresciato insomma sono molto contento che ci sia ma ecco a voi tutte le informazioni che ho trovato online sul dji mini 3 iscriviti al canale grazie a tutti